Maestro Peltassoglia, sono Vito, sono non vedente di Matera, ci conoscevamo anni fa. Vabbè, comunque, ora vorrei farle un'intervista da poter mandare ai non vedenti di tutta Italia. Quindi vorrei che lei, maestro, che ha fatto il carro della Bruna per tanti anni, e anche quest'anno ha fatto il carro, e io sono onorato di poter parlare con lei, vorrei che lei spiegasse a me e agli altri come me, come il carro, in parole, ben spiegato. Grazie, maestro. Quindi, praticamente, dato che quest'anno è l'anno santo e della misericordia, ho dovuto, cioè, quando ti danno il tema, è la chiesa che ti dà il tema della presentazione. E quindi, dato che l'anno santo è della misericordia, ho pensato di fare la parabola del figlio al prodigo. la sala parabola del figlio al prodigo, la sapete? Non la dica perché gli altri miei amici vogliono sapere tutta la spiegazione. Qui, la situazione è questa, che c'è un ricco terriere, ciao, grazie a stasera, ciao, ciao, ciao. Sto spiegando al signore che non vede. Quindi, c'è questo signore che ha un sacco di terreni e ha due figli che lavoravano con lui. A un certo punto uno di questi figli si è alzato la mattina e ha detto al padre, dammi quello che mi spetta perché io con te non voglio stare più. Quando ha sentito il padre si è un po' incuriosito, diceva, ma che stai dicendo? Stiamo lavorando tutti quanti, stiamo tutti assieme, perché te ne vuoi andare? Non voglio stare più, dammi quello che mi spetta e non c'è stato verso per poterlo convincere. E in effetti il padre che aveva fatto? Ha dato tutti i soldi che gli aspettavano e se ne è andato il figlio. Naturalmente questo figlio ha preso i soldi e se ne è andato a spasso, a spendere, a fare l'ira di Dio. Quindi praticamente facendo questa operazione si è trovato tanti di quegli amici, si è trovato, perché offriva sempre lui, offriva. Però questi soldi cominciavano a finire, tanto che poi è arrivato alla fame, è arrivato. Non mangiava neanche niente e se voleva mangiare, ecco, ho fatto anche il maialetto, qui sta fatto anche il maialetto che adesso spiego che c'è. Era il padre, il maialetto, ecco, quando aveva fame andava a mangiare con la maiale. Immaginate un po' dove è arrivato questo qui. A un certo punto, Donina ha iniziato a pensare, il più povero che sta con mio padre a lavorare, quello mangia e io vengo a mangiare con i maiali. Devo andare a chiedere perdono. E in effetti si decide di andare a parlare con il padre e in effetti mentre stava nel campo il padre lo vede in vondananza che arrivava. Questa sta arrivando mio figlio che l'avevo perso. Quando si avvicina, se vedete, il figlio è arrivato vicino che si stava incinocciando, lo solleva e dice non sono più degno di essere tuo figlio, però fammi lavorare che io voglio mangiare. Allora l'ha sollevato, se l'ha abbracciato e al cameriere ha detto andate a prendere i vestiti più belli, le scarpe più belle e l'anello d'oro che noi dobbiamo festeggiare il suo ritorno. E quindi è andata nella sala a prendere il vitello più bello che sta, lo dobbiamo uccidere per festeggiare il suo arrivo. La storia non venisce qui perché quando arriva la sera il figlio, sente tutti musica e dice ma che sta succedendo? Perché non sapeva niente quando è arrivata la sera. Ha detto al cameriere, ma che sta succedendo? È venuto il tuo fratello, è venuto il tuo fratello. Allora si è incavolato perché quando va dal padre tutto incavolato, dice io ti ho chiesto una volta un capretto e non me l'hai voluto dare perché io dovevo festeggiare con gli amici. Adesso è arrivato questo che ha pulito tutto e stai facendo questa festa. Caro figliuolo, disse il padre, ecco la misericordia perché il padre voleva perdonare a tutti qua, vuol perdonare ai figli, dice al figlio l'avevamo perso e l'abbiamo ritrovato. Lo credevamo morto ed è vivo. Adesso dobbiamo festeggiare il suo ritorno. E questa è la... Ci dica un po' le statue, ci dica un po' le statue, come sono in posizione. Dunque le statue, quindi le statue rappresentano al centro la scena madre, è quella che sta il fratello, il cameriere con i vestiti e l'anello. Ciao, ciao bello. Il padre che lo solleva mentre si sta inginocchiando e poi c'è una donna che è rimasta quella donna soltanto era una prostituta questa qui, perché gli era rimasto accanto che naturalmente si dispiaceva lasciarlo solo perché lo avevano abbandonato tutti quanti. E quindi qui sono cinque statue, tutte in cartapesta. Poi vicino all'ingresso della porta della Madonna c'è la figura del Papa, di Papa Francesco, perché naturalmente devo omettere che lui ha voluto questo, quest'anno santo, ha voluto e ho fatto il Papa, con due angeli con le trombe. E poi naturalmente tutte le decorazioni, quadri della, della cosa, della misericordia. C'è per esempio questo prete che è questa di Mattia, Don Giovanni Mele, che è stato uno dei primi a dar da mangiare agli affamati che sta qui. Poi c'è sotto a visitare i carcerati, poi lì a dar da bere agli affamati, poi lì a visitare agli ammalati, tutti e sette, dall'altro lato sta qui. Che cosa è successo? Perché quando Gesù disse, ma avete visto affamato e non mi avete fatto mangiare? Mi avete visto in carcere e non siete venuti a trovarmi? Ero malato e non mi avete curato? E poi gli dicevano le persone, ma quando mai noi abbiamo mai visto quello che avete fatto a quelli? Ero io. Maestro, io la ricordo. Io ricordo quando vedevo quanto erano belli i vostri carri. E immagino che anche ora siano anche meravigliosi. Ora, vorrei chiedere per anche gli altri miei amici non vedenti, che numero di carro è questo, il centesimo? Quanti ne ha fatto? Dunque, io, questo è il cinquantesimo carro, perché ho iniziato all'età di 13 anni. Quando si incomincia a imparare veramente, perché ha 13 anni, nuovamente è libera, e adesso a 18 anni si deve andare a imparare. A 18 anni non c'è canzone, ma ragazzo, divertimento, e non sembra niente. Questo è la preoccupazione, questo mi preoccupo molto. Spero che qualcuno segua il suo esempio. E io, quest'anno, se prendete il giornale, ho detto qualche cosa proprio in merito a questo. Stamattina sulla Gazzetta c'è un articolo che ho fatto l'altro giorno, l'hanno messo stamattina, e quindi potete leggere quello che ho detto al giornalista. Ci credo e sono d'accordo. Sono felice di averla incontrato. No, sono più felice io che voi.